Abbiamo acceso oggi l'albero che è l'8 dicembre, la festa dell'Immacolata, come ogni anno, ormai da dieci anni, da quando il nostro fondo possiede la Galleria Colonna, la Galleria Alberto Sordi, ed è pieno di gente che viene qui per farsi le fotografie e che inizia con questa piccola cerimonia il periodo delle vacanze di Natale, delle festività, degli acquisti in generale. Nel cuore di Roma oggi è anche particolarmente affollata perché il Papa va a Piazza di Spagna per il suo incontro annuato. Allora, l'accensione è una cosa tradizionale che noi facciamo sempre, l'8 dicembre, per la festa dell'Immacolata. Ogni anno cambiamo decorazione, quest'anno abbiamo questo bellissimo albero che è alto 12 metri e trovo che sia splendido. Noi come Sorgente Group amiamo appunto dare sempre in Galleria una cosa diversa e quindi quest'anno penso che tutti siano ancora più sorpresi e confronto all'anno scorso. Grazie.